Spariti, nessuna traccia. I venditori abusivi che il sabato si mischiavano ai banchi dei commercianti regolari di Prato della Valle da due settimane non ci sono più. Un'azione efficace e silenziosa quella messa in campo dal comando provinciale della Guardia di Finanza. I venditori abusivi sono letteralmente scomparsi quindi significa che se c'è la volontà di affrontare il problema lo si risolve nel giro di mezza giornata. Un ringraziamento particolare va al comandante della Guardia di Finanza il colonnello Dametto e del tenente colonnello Luca Lettere per averci ricevuti. Fondamentale anche lo stimolo arrivato dalla nostra emittente. I vertici della Guardia di Finanza abbiano attenzionato e abbiano ovviamente come dire visto i servizi che sono andati tra l'altro sulla vostra emittente televisiva e costantemente da un paio di mesi a questa parte. Grande assente ribadiscono i commercianti il comune. È il grande assente tutta questa operazione perché malgrado tutte le mail tutte le richieste che ovviamente di intervento che sono giunte all'amministrazione comunale effettivamente non si è mosso nella volontà politica di affrontare il tema abusivismo in maniera forte in maniera determinata. Grazie. 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 Grazie.